Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Guerrieri, Consulente Vendita e RaiNord. Passo ora a presentarvi questa fantastica Alfa Romeo Giulia in allestimento Super, una 2280 CV, è una vettura di luglio 2017 con 17.500 Km. Una vettura corredata di cambio al volante, ruota in lega da 18 pollici, fari Xeno, interne in pelle elettrici con memoria e tetto apribile panoramico. È una vettura che noi proponiamo a 26.900 euro.